Partiti E' in vantaggio Guizzo Vincente davanti ad Uniram, Uvergette Kei, Workhard, Scatenate l'Inferno, Keplero e Mevat All'inizio della curva passa Uniram davanti a Guizzo Vincente, Uvergette Kei, Workhard, Scatenate l'Inferno, Mevat e Keplero Poco prima dell'ingresso in dirittura prosegue in vantaggio Uniram davanti a Guizzo Vincente, Uvergette Kei e Mevat I cavalli entrano in dirittura con Uniram in vantaggio lungo la corda davanti a Guizzo Vincente con all'esterno Uvergette Kei, Seguono Mevat, Workhard, Scatenate l'Inferno e Keplero E' sempre in vantaggio Uniram lungo la corda davanti a Uvergette Kei, Guizzo Vincente e Mevat, Workhard e Keplero Prosegue in vantaggio Uniram attaccato all'esterno da Uvergette Kei, Seguono Mevat e Workhard, Passa Uvergette Kei davanti ad Uniram, Mevat e Workhard si allunga Uvergette Kei davanti a Uniram e Mevat Grazie Grazie